Critiche arrivano dal centro-sinistra alla gestione della sanità nella nostra regione da parte della giunta Marsilio. A bacchettare è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci che sottolinea come dopo dieci anni l'Abruzzo abbia perso posizioni su ILEA, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Per il capogruppo del Partito Democratico la causa è soprattutto la mancanza di un vero e proprio piano sanitario. Noi lo avevamo sempre sostenuto, senza una programmazione e con i disastri della giunta Marsilio saremmo arretrati. Così è, sono dati precedenti alla pandemia in cui si raffrontano i rilevamenti di tutte le regioni e mostrano per la prima volta dopo dieci anni al primo anno di gestione Marsilio un arretramento per quanto riguarda i livelli essenziali dell'assistenza, indicatori per misurare rete ospedaliera, territorio e prevenzione. Non va bene e non ancora abbiamo i dati della mobilità, purtroppo noi siamo a conoscenza che la migrazione dei cittadini abruzzesi e delle famiglie abruzzesi verso altre regioni è aumentata. Tutto ciò avviene perché non c'è lo straccio di una programmazione e anche il Covid peraltro poi successivamente a questi dati che sono del 2019 ha impattato e molto in questa regione perché sono rimasti indietro tantissime prestazioni. Non si può non avere un programma, tutti i programmi sono addirittura dopo due anni e mezzo della precedente legislatura scaduti al 31 dicembre 2018 e se tu non dici alle ASL sostanzialmente cosa vuoi fare, come vuoi investire, su quali eccellenze, rete dell'offerta dal territorio alla prevenzione all'ospedale vuoi dare priorità, i risultati sono questi. È davvero molto grave quello che sta accadendo nella mancanza di governance in sanità in questa regione.